4 novembre 2020 giorno dell'unità nazionale giornata delle forze armate come allora anche oggi l'italia vive un momento particolare noi in questo istante siamo immersi ancora in una crisi sanitaria importante ma che non deve fermarci e non deve limitare i nostri sforzi verso un futuro migliore dalla nostra abbiamo il sacrificio e le vite perdute dei nostri giovani soldati che nel 1918 sepero unire insieme un italia fino allora disunita ecco che con questo spirito con animo di generosità da un lato ma anche di grande speranza dall'altro auguro da parte dell'amministrazione comunale a tutta la comunità riverasca dolese e nazionale un augurio di cuore di una festa dell'unità nazionale e di una giornata delle forze armate di orgoglio e di speranza per tutti